Intanto vi ringrazio di essere qui, in particolare il gruppo delle curatori che sono nostri ospiti e grazie di registrare, tutti gli amici ne vogliono essere qui con noi e vi presento l'anzame musicale Viberi di Suonare, più costituito dai virocinanti del Master di Musica e Terapia del Conservatorio Monter e dai membri dell'Associazione New Day di Suonare, che sicuramente già conoscete Allora, l'anzame musicale parte stamattina vi suonerà Buen Desenso Marcellin e poi suoneranno Libertando e poi ci sarà una piccola improvvisazione da fare, poi si sentiranno le curacchioli che ci porteranno due canzoni popolari, dopodiché tutti quanti insieme chiudiamo il cerchio, vi do uno strumento ciascuno e facciamo un'intervistazione di gruppo e ci troviamo facendo un po' di chiena Va bene? Allora, buona sera, grazie di essere qui Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.